Va ora in onda Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. Medici e famiglie insieme all'ospedale di Pescara, in un incontro per promuovere una rete sociale in occasione della tredicesima edizione della giornata mondiale della sindrome di Down. A organizzarlo il direttore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia, il dottor Maurizio Rosati, su input di alcune mamme e di bambini con la sindrome di Down, seguite nel percorso nascita dalla ASL di Pescara. Presto, annuncia lo stesso Rosati, aprirà anche uno sportello Save the Children, probabilmente proprio presso la sua unità. Siamo pronti, ha detto, ora la direzione sanitaria deve deliberare. Lo sportello, ha spiegato Rosati, si occuperà dell'aspetto più sociale e quindi anche della situazione della coppia, non solo con bimbi con sindrome di Down. In particolare, per la celebrazione della giornata mondiale, Rosati ha ricordato le parole di un padre di una bimba che diceva che quello che è importante è far vivere la normalità. Se una comunità sa accogliere e seguire un bimbo, sarà anche un buon adulto. Una famiglia abruzzese ha speso in media 336 euro per la bolletta dell'acqua nel 2017 rispetto ai 408 euro della media nazionale. L'aumento rispetto al 2016 è stato del 2,2%, mentre rispetto al 2007 è stato del 62,5%. E Teramo, la provincia abruzzese più economica, con 299 euro. L'Aquila, invece, è quella più costosa, con 389 euro e un incremento dell'8,1% sul 2016. Il livello di dispersione idrica in Abruzzo raggiunge il 39% rispetto al 35% della media nazionale ed anche su questo fattore si riscontrano differenze rilevanti tra le province. Si va dal 50% di Pescara, dove dunque metà dell'acqua praticamente si perde, al 27% di Teramo. La fotografia emerge dall'osservatorio a prezzi e tariffe di cittadinanza attiva, che ha realizzato la tredicesima indagine sui costi sostenuti da una famiglia fino a tre componenti e con un consumo medio di 192 millimetri cubi all'anno, per il servizio idrico integrato nel corso del 2017. Secondo cittadinanza attiva, con un uso più consapevole e razionale, una famiglia abruzzese spenderebbe 252 euro anziché 336. La cronaca, una giovane albanese residente ad Avezzano avrebbe violentato per ore una prostituta e poi l'avrebbe minacciata di morte se fosse andata a denunciare l'episodio alle forze dell'ordine. La giovane però, accompagnata da un'amica, si è recata ai carabinieri della compagnia di Avezzano, denunciando la violenza subita e le minacce ricevute. La vittima è stata anche visitata al pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano, dove i medici le avrebbero refertato il rapporto violento. In occasione dell'avvio della Settimana Santa e dello svolgimento delle giornate FAI, Fondo Ambiente Italiano, la Società di Promozione Turistica di Penne Capture, in collaborazione con il Comitato Venerdì Santo Penne, l'Arcidiocese di Pescara Penne e il Comune di Penne, propone un'iniziativa volta a valorizzare storia, arte e tradizioni dei riti legati alla Settimana Santa Pennese. L'evento ha il titolo Consummatum Est, tradizioni e leggende del Venerdì Santo a Penne, e si svolgerà il 24 e 25 marzo nel palazzo dell'ex Tribunale, dalle 9.30 alle 18.30, Largo San Giovanni Battista. Attraverso un percorso espositivo allestito all'interno dell'ex Convento delle Dame di Malta, oggi sede del Tribunale, ci si potrà immergere nella suggestiva atmosfera della storica processione del Cristo morto di Penne, tra le più antiche della regione ed Italia, istituita ufficialmente nel 1570. Nell'occasione sarà possibile anche ammirare in una straordinaria esposizione il Cristo di Pezza, antico simulacro del Cristo morto, realizzato in stoffa, protetto e custodito per secoli all'interno dello stesso convento delle monache gerosolimitane dell'Ordine di Malta, la cui storia è avvolta da leggende e misteri. Recuperato più di 20 anni fa in seguito restaurato, è stato per poco tempo in mostra nel Museo Civico Diocesano di Penne, poi chiuso a causa del terremoto del 2009 e in occasione di questo evento tornerà ad essere esposto. Anche quest'anno a Montesilvano è possibile accedere al fondo di morosità incolpevole, possono essere ammessi al beneficio coloro che richiedessero essendo in possesso della cittadinanza italiana di un paese dell'Unione Europea o, nei casi di cittadini che non appartengono all'Unione Europea, di un regolare permesso di soggiorno. Residenti nel comune di Montesilvano, titolari di un contratto di locazione, cioè di affitto su unità immobiliare ad uso abitativo, regolarmente registrato, residenti nell'alloggio che è al centro della procedura di rilascio da parte da almeno di un anno. Destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, concitazione per la convalida, non titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, di altro immobile, fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Quest'ultimo requisito riguarda anche gli altri componenti del nucleo familiare. Necessari anche il reddito ISEE non superiore a 35.000 euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a 26.000 euro. I contributi saranno destinati soprattutto agli inquilini nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio, cioè di sfratto per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto di locazione, cioè di affitto a canone concordato. Inquilini la cui ridotta capacità economica non consente il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. Oggi è venerdì 23 marzo e la Chiesa consente la commemorazione di Sant'Uribio di Mongrovejo Vescovo e siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa pioggia fino al primo pomeriggio e cielo coperto nel resto della giornata con temperature da 5 a 7 gradi e venti moderati. E nelle zone interne cielo coperto con neve moderata al mattino, pioggia nelle ore centrali e nel pomeriggio e cielo coperto in serata con temperature da 1 a 4 gradi e venti da deboli a moderati. Il mare è previsto da poco mosso a mosso. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa metropolitana di Pescara Penne, a voi tutti grazie per averci seguito. Buona giornata. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Ciao! Ciao!